il monumento al mio orto il ciocco questo è il mio piede enorme guardate questo pian piano va in decomposizione e diventa humus vedete poi qua finisco pulire vi faccio vedere la bellezza di questa opera della natura vedete ho tolto i rovi erano tre anni che non votavo guardate qui questo va in decomposizione diventa tutto concime naturale qua deve finire di potare anche qui questa è la parte superiore poi quando non vi avevo faccio un bel video e prendete conto della grandezza guardate qui dentro dentro qui qua già questo è concime naturale qui andiamo da questa parte un paio di giorni qua ho già potaia guardate che bel lavoro che ho fatto ancora devo pulire poi lavorare l'orta e la ginastica ortecola la migliore salute chi si ferma è perduto chi sta in ozzo senza muoversi si ammala l'organismo non ce l'abbè poi oggi 7 gennaio 2024 ha passato il capodanno passano i giorni passano i mesi passano gli anni ci passano gli anni passano gli anni passano gli anni passano le faremo in una